il mare ma io veramente voglio aprire, sai? no, 8 minuti ma veramente, sai, come ti senti? ma non vale si è uscita ma io volevo... lezioni di ballo ok, quando è arrivato, lei sono qua, tu hai lo sanno, lascio qua, e giusto, vieni la mera non ha il capo della mera e giusto la mera ma hai il capo della mera? ma lui non è giusto la mamma e' il capo della mera ma lui non dovrebbe, e' il capo della mera e' qua ho il senso alto in qua, senso alto e', quella fa... vai vai vieni la mera tutto è schifo comunque cioè, voglio che questa cosa magari si tratta in questo simulare per favore non è vero ora è vero e' vero e' vero ma che è stato a te ok non è vero il suo lavoro non è vero ora signori valla cantata vera! signori valla cantata vera! il volico il volico è mai più bene ahahah francesi suggerisci piano bar piano, fatto piano che solo le tre and guarda ok no ma non mi sento il gruppo del pubblico che fa? e il pubblico fa piano mi raccomando l 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 l'uva l'uva povera o è l'uva 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 la barba l'uva la parola il barato la parola vallare parola la parola a a a a l'arra a la tecnici mai albano il ragazzo del tecnici la vera io faccio il uomo maricon ok ok cosa vuoi portatini io l'uva e con i suoi il il l'uva 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 ahahah la parola la parola e faccio la vita la parola la parola via un valore parola la parola è la parola aiutare la parola la parola ma è il carriere devo ammortizzare la zona del palazzo per l'alberto io ti credo che è stato molto bello no 4 ma la parola ecco me la ricorda e il tuo posto ed ecco ok io ho capito che non vediamo la regia vuole 1 no don't non c'è non c'è ma io ho fatto rumore! non c'è vieni bene bene ma io tenevo una macchina in corso con le loro stesse l'amore attraverso la parola la parola corrispettica la parola la parola non c'è la parola un pochino c'è un pochino non c'è un pochino non c'è un pochino non c'è un pochino l'apporto c'è un pochettino l'apporto 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 pochettino pochettino non si fa non è che non si fa, appoggia il cemano, se c'ha le palle, appoggia il cemano, che cosa? che cosa? che cosa ti posa? che cosa ti posa? non si fa parla, 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 parla... parla, 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 parla... guarda, 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 come è campana, i droglioni guarda, guarda, è difficile, vuoi spararsi ahahahahahah nooo no, dai, non ci ho mai fatto no, dai, non ci ho mai fatto vai con la mazzurra, vai con la mazzurra, Francie, vai con la mazzurra no, non fa la mazzurra, non è che cosa è praticamente, la mazzurra... è quello? il Cristo dai dai, no vai, non posso dire, ragazzi guarda, ecco vai, 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 sottofila no, non lo potete disparare sono tanti heraข di un guy ma sono che io non lo conoscono dell'especiale erandet vita la mia città non c'è ma a fare ci vedere quello che è l'Ungheria nazionale no, non c'è un nazionale uno di persone della sua regione grazie, no del mezzo maestro del sud non c'è un po' questo del sud